In questi 4-5 mesi da quando la Commissione ha presentato la sua proposta sono stati organizzati diversi incontri a livello politico, sia a livello generale, quindi capi di Stato di Governo e anche settoriali, quindi consigli dei Ministri dell'Agricoltura, della coesione, dell'ambiente, quindi tutti i settori che in qualche maniera sono coinvolti nella gestione del bilancio comunitario. Poi una serie di incontri tecnici, ora siamo arrivati in una fase molto delicata perché nel mese di dicembre si svolgerà il vertice dei capi di Stato e di Governo, nel cui contesto si prenderanno alcune decisioni sia in termini di timing, quindi di tempi di approvazione e anche verranno tirate le fila delle posizioni dei principali Paesi, delle principali posizioni riguardo al bilancio comunitario. Diciamo che sulla PAC ci sono opinioni molto discordanti e tutto dipenderà dal dibattito sul bilancio comunitario perché è difficile prevedere o pensare che si possano riformare politiche settoriali senza sapere quali sono le risorse che vengono messe in gioco, quindi dalla decisione che verranno assunte sul bilancio poi si decideranno i tempi sulla PAC per quanto riguarda noi. Sulla PAC in particolare noi abbiamo una posizione molto decisa perché al pari di altri Paesi abbiamo subito un taglio importante, l'Italia è un contribuente netto al bilancio comunitario, quindi la posizione del Governo, non del Ministro dell'Agricoltura, ma del Governo è che dalla PAC l'Italia vuole riequilibrare la posizione di contribuente netto al bilancio. Per quanto riguarda i tempi, è quasi scontato che questa riforma non verrà approvata da questo Parlamento perché di fatto il Parlamento finirà i propri lavori nei primi mesi del 2019, però non è assolutamente detto che la filiera Consiglio e Commissione, che rimarrà chiaramente in carica, possa andare avanti nei lavori e quindi chiudere un documento anche generale con quella che è l'impostazione che oggi è fortemente criticata da molti. Per quanto riguarda la PAC, si va avanti nella filiera Consiglio del Ministro dell'Agricoltura, quindi mensilmente una materia che viene trattata dalla Presidenza austriaca e verrà ripresa dalla futura Presidenza rumena e quindi è molto probabile che nei primi sei mesi del 2019 sulla PAC a livello di Consiglio, quindi Consiglio del Ministro dell'Agricoltura, si possa arrivare ad una posizione condivisa. Le problematiche che noi abbiamo in questo contesto sono di due ordini di profili. La prima è tutta interna italiana perché il nuovo sistema prevede un approccio strategico nel cui contesto i rapporti tra Commissione e Stato membro, le Regioni prenderebbero una posizione più marginale. Questa posizione le Regioni l'hanno fatta rilevare, l'hanno fatta rilevare con un documento che è stato trasmesso politicamente dal Presidente della Conferenza Stato e Regioni e su questo ci sarà un confronto con il Ministro dell'Agricoltura entro questo mese di novembre e da questo confronto dovrebbe poi scaturire quella che è la posizione dello Stato membro in termini di equilibrio costituzionale tra Stato e Regioni. L'altro tema di grande rilevanza è legato al tema strategico e da una PAC che verrà finanziata sulla base della capacità di dimostrare il raggiungimento di risultati su obiettivi predefiniti. Quindi questo è un salto di qualità molto importante perché la Commissione pretende per rendere visibile questa politica, pretende di misurarla e di poterla anche spiegare ai cittadini europei che sono contributori, spiegarne gli effetti e quanto questa politica sia allineata alla strategia 2030 e quindi agli obiettivi di sviluppo sostenibile che l'intera Unione si è data. La prima è tutta interna nostra è trovare un equilibrio tra Stato e Regioni su quello che è il modello organizzativo più efficiente per poter stare al passo con gli obiettivi di questa nuova politica. Il secondo è sempre di natura organizzativa, è quello di poter saper coinvolgere tutte le istituzioni che a diverso titolo sono chiamate ad esprimere un giudizio sull'impianto strategico della futura PAC. Mi spiego meglio, se parliamo di riduzioni di emissioni, di riduzione dell'impatto ambientale della politica, noi per poter misurare le performance su questi temi dobbiamo comunque coinvolgere il mondo ambientale, quindi significa l'Istituto dell'Ambiente, ISPRA come istituto di ricerca, le associazioni ambientaliste, quindi è una PAC che non sarà cucinata solo in casa, ma si dovrà rivolgere anche all'esterno. Se fossi in grado di dare una risposta compiuta su una domanda di questo tipo sarei sicuramente un genere, quindi siccome non lo sono, posso pensare che la competitività dell'agricoltura italiana si possa giocare in futuro sulla sostenibilità dei processi produttivi e sulla maggiore competitività delle produzioni agroalimentari italiane che possono essere illustrate ai consumatori anche dal punto di vista della sostenibilità. Noi non siamo in grado di competere sui costi con i grandi produttori internazionali, siccome andiamo avanti verso prospettive di liberalizzazione e queste sono situazioni su cui poi l'agricoltura non riesce ad avere una voce univoca, parlo dell'Unione A27, è quindi evidente che il sistema paese si deve proteggere potendo differenziare le proprie produzioni. Il tema della sostenibilità è sicuramente il tema che è più caro ai consumatori, oggi c'è una consapevolezza nettamente superiore, non parlo solo della parte vegetale, parlo anche delle produzioni zootecni, quindi il tema del benessere animale, della riduzione dell'uso dei farmaci, l'antibiotico di resistenza, quindi la PAC deve mettersi nelle condizioni di poter spiegare meglio quelli che sono gli strumenti a disposizione, gli obiettivi che vuole raggiungere e la maggiore qualità che è in grado di offrire ai consumatori europei. Su questi temi il Veneto ha una partita importantissima, perché il Veneto è una regione su cui si concentra gran parte della produzione zootecnica italiana, parlo soprattutto della carne, ma anche del latte e poi del settore vitivinicolo, la cui filiera anche in questo caso si sta misurando sempre sul tema della sostenibilità e sta sperimentando quanto poter spiegare a un consumatore non solo italiano, ma anche internazionale il concetto di sostenibilità sia fortemente connesso alla possibilità di rendere competitive le proprie produzioni.